Premiare per ringraziare questa collaborazione fattiva che c'è da tempo tra l'IRCS, gli ADCS e Cancro Prima Aiuto. Sì, per noi come Policlinico è una novità perché Cancro Prima Aiuto è la prima volta che lo incontriamo. Nelle mie precedenti esperienze ho avuto modo di lavorare con Cancro Prima Aiuto in modo fattivo. Con il Policlinico è l'inizio di una nuova collaborazione, una nuova avventura. Stasera è serata di premiazione per premiare ma anche per ringraziare l'attività che avete rivolto soprattutto ai più deboli e ai più bisognosi. Questo è sicuramente vero, non solo per l'attività che viene svolta in modo ordinario ma anche per il fatto che molta attività che viene svolta dall'Istituto viene svolta senza rimborso dalla Regione. Perché spesso, tutti gli anni andiamo fuori tetto, cioè ci sono migliaia di prestazioni sembulatoriari, centinaia di prestazioni di ricovero e interventi che non vengono retribuite perché vanno oltre il limite del riborso. Però la vocazione e il desiderio anche dei soci è di fornire un servizio alla comunità. Quindi ce ne facciamo carico perché non si possono abbandonare pazienti a ottobre, novembre, a fine anno solo perché non possiamo essere rimborsati. Quindi è anche una forma di servizio alla comunità e di questo sinceramente siamo orgogliosi tutti noi che lavoriamo all'Istituto. È un piacere collaborare con Cancro Primo Aiuto. Sicuramente è un piacere. È un soggetto affidabile, ha una grande storia, ha aiutato tantissimi enti ma in particolare SST Lecco in questi anni, in questi lunghi anni di cooperazione riconoscendo un valore al Manzone di Lecco, al Mandic di Merate ma anche con un riconoscimento reciproco di capacità di capire bisogni e appunto di affidabilità, di costanza. La prima volta di Policlinico e Cagranda con Cancro Primo Aiuto è l'inizio di un cammino questo. Sì, speriamo di sì. È stata una bellissima occasione di incontro, di conoscenza. Noi siamo un ospedale penso con il più grande numero di associazioni e fondazioni che collaborano con noi. Ne abbiamo più di 100 quindi saremo veramente molto orgogliosi e felici di aggiungere anche Cancro Primo Aiuto per quello che abbiamo sentito stasera tra le nostre associazioni che collaborano con il Policlinico per il bene dei pazienti e della città. Per cui una bella occasione di conoscenza e un inizio, sono sicuro, di un'ottima collaborazione.